L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo ora con la supplica alla Madonna di Siponto. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda a noi tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza, per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dai Suoi ministri, rendi la segno e strumento della tua luce e della tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede, accompagna le famiglie, rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli, preserva gli anziani della solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento, intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci come, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, O pia, O dolce Vergine Maria, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.